Il quinto in meno di un anno e il secondo in un mese, sono emozioni, poi questo qui è ancora più emozionante con la Betta, ogni Everesting ha una storia a sé come raccontava la Betta, questo qui ha delle emozioni diverse che ho condiviso con lei e adesso ne studiamo già un'altra. Mi sono messo io alla prova in un'altra esperienza, non io con le mie gambe, con il mio fisico ma la mia mente che ha aiutato un'altra persona, è stata veramente emozionante perché tanto mi aspettavo momenti di crisi, ci sono stati, è stata bravissima lei uscirne, me lo aspettavo perché ormai qualche esperienza si sta salita, ce l'ho dai. Siamo poco sopra i 9.000 metri, è una soddisfazione grandissima, devo ringraziare Maurizio e Enrico che veramente mi hanno regalato una bellissima cosa, mi emoziono ma è veramente bella. L'emozione è il minimo insomma che si deve dimostrare al termine di una impresa come questa, un'impresa come questa è un'impresa eccezionale, per te la prima e sicuramente avrai avuto modo nelle tante ore di emozionarti anche in vari momenti, di avere momenti belli, momenti difficili, raccontacene uno a tua scelta. Sì un momento difficile c'è stato sui 6.000 metri, la testa sempre lucida ma le gambe per una scalata mi avevano abbandonato, poi siamo riscesi, abbiamo mangiato e siamo ripartiti per arrivare adesso a 9.000, non ci fermiamo e continuiamo altre due scalate, andiamo a 10.000. Come dico sempre è normale che quando organizzi qualcosa speri sempre che tutto vada al meglio, non sempre tutto riesce come vuoi, quindi quando anche facciamo piccoli errori li prendiamo come insegnamenti per poi gli eventi successivi, ormai siamo in pista da diverso tempo e quindi è normale che l'esperienza ci porta ogni volta sicuramente a fare meglio. Il bello di tutto questo è che ogni volta che organizziamo qualcosa vediamo che abbiamo persone che ci seguono, persone che sono contente di far parte di questo movimento sia nella vita sia nello sport per superare non solo le sfide ma delle volte anche purtroppo i problemi o quello che sono l'incognite della vita bisogna avere una grande forza mentale. Loro lo dimostrano facendo queste cose ma io dico che se riusciamo ad essere sempre concentrati, sempre presenti, sempre lucidi diventa sempre più semplice e sicuramente riusciamo meglio ad affrontare la quotidianità.